Oggi la costa specifica, come vedete alle mie spalle, è ormeggiata nel nostro porto. Il governo ha ricollocato tutte le navi da cruciera che hanno dovuto sospendere l'attività in tutti i porti d'Italia. Noi abbiamo ospitato, ospiteremo fino a fine aprile questa nave della costa cruciera e forse un'altra della MSC che starà qua chiaramente senza passeggeri, solo con un minimo equipaggio che non potrà uscire, come nessuno di noi chiaramente in questa fase, e daremo la nostra disponibilità nel nostro porto a tenere questa nave per questo periodo. È chiaro che le raccomandazioni per voi sono sempre le solite, stiamo in casa il più possibile, evitiamo gli spostamenti, cerchiamo di combattere il virus con tutti i mezzi possibili.